Fornire le sedi sul territorio uno strumento per gestire in modo competente e professionale la comunicazione, partendo dalla consapevolezza che sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue e mantenere informati gli associati siano attività imprescindibili per Avis. Nasce con questo obiettivo la nuova edizione del Vade Mecum della comunicazione associativa, realizzato nell'ambito della piattaforma dedicate alle linee guida. Tale documento si presenta oggi in una vesta enricchita e aggiornata. Se la precedente edizione mirava a fornire indicazioni per orientarsi nel mondo della comunicazione social, il nuovo documento aggiunge a tale importante ambito anche altri aspetti, dalla comunicazione istituzionale all'attività di ufficio di stampa, passando per il rispetto del diritto d'autore e la tutela della privacy. Tale documento rappresenta un modo per continuare a garantire all'interno e all'esterno dell'associazione una comunicazione chiara, coerente ed efficace, che possa raggiungere l'obiettivo più importante, la promozione della cultura del dono.